Anzi, 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 baby, car, riusne, hello, welcome, before we have played in Minecraft, now Splatoon and later, maybe, other time, in Minecraft, hello, car, hi, hi, Rodney, Allora, ma non lo sanno che tutte le tartarughe ninja hanno nomi italiani, e non è solo Raffaello, io penso che Leonardo è del Mississippi, Donatello è del Kentucky, Kentucky Donatello, io credo che c'è un errore, 19 persone già, So, oh, c'è l'audio, funziona benissimo, Manuela, ciao a tutti, hello, everyone, hola a todos, hola, 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 I'm at a birthday party, do you have Rocket League? Yes, we have Rocket League, right now it's Splatoon time, and enjoy your birthday, bloop, 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 party, Manuela, hola, hola, Manuela, stip, plip, 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 ah, ma quindi hanno messo, ciao Sve, ciao Sve, Che cosa hanno messo? I tagli di capelli? Sì, eh? Io non li ho visti ancora, Non li ho vissi ancora, non li ho vissi ancora, è drammatico, Che capelli che... E quali sarebbero? Lui è tutti uguali? No, no, ancora no. No, se non sta, di guardo. Salve, Kate, buonasera, voy a cenare e juego con vosotros aquí. Grande! Muy bien, nuestra sniper, muy bien, Manu, buon provecho. Sassi, ciao Sassi. Ciao bello. Hola, Marquitos, también a ti, bienvenido. Che ha letto. Vediamo se mi fa fare una cosa? No. Che cazzo. Non mi fa registrare l'OBS, capito? Comunque dai, andiamo in lobby? Sì. Secondo me c'è un problema, perché non è possibile che ci sono 19 persone dentro. Adesso, secondo me è rimasto bloccato a prima, sai? Sì, è vero? No, come dice, è un altro numero. Hai dato l'on-air, vero? Ja! Siamo on-air. Tranquilla. Fa niente, Kate? Abbia il settimo, bienvenida. Abri! E' arrivato Fanta, è arrivato Fanta, è arrivato Fanta, è arrivato Fanta, 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 Fanta. E non ha scelto, no, ancora? Non hai scelto un po' davvero nello Splatfest? Questa è ancora da scegliere. Quindi? Partiamo? Si parte! Aiaiaia! Cazienzo! Venga, la siguiente te tocca. E quindi, quindi, quindi? No, mi sono intimato una cosa. Mettere un'altra arma? No. Perché? E stiamo con le primi in amistosa, come sempre. Oh, come fai? Per subire un po' di livello. Garare un par di monedità in Splatoon per poter comprare la roba e stare alla moda. E le armi. Anche con le armi non tanto. Quindi, ragazzi, i primi match, come sempre, in regular battle. After some of them, we will go into private mode. Io ho messo il più, più, più che Raffaello, perché è british come voi. L'ho messo il Raffaello. Io vado con Leonardo. Leonardo. Che bello quando dite è arrivato Fanta. C'è uno Splatfest? Che ci sono tre Splatfest a maggio. Edda e Ninja... Ninja Turtles. Ninja Turtles. Io sempre mi quedo con la misma ropa, anche me lo vado cambiando a cada estazione. En serio? Che realista! Che curioso! Ciao, sol! Transcend, sol! Sol! Our sun. Sun in the sky. però Carl, anche io non lo faccio così si è vero che quando una volta ho jugato in verano e ho messo un abrigo come mi sentia rara fuori del luogo o in tiranti in invierno che buono che questo mar in modo storia ha ropa nuova e rango X per questo è la che mora delle actualizazioni di Splatoon questa è stata abbastanza ampia marco l'ero di bacio frangè si è arrivato frangè oggi bacio inizio update Splatoon in has not got storage space cancellare mettere una tarjetta cancellare o mette una tarjetta sd find sd card quella france ciao francesco ragazzi ho salutato anche lui ragazzi mi è arrivato è arrivato un video di Crazy Justice che sarà anche in schermo condiviso split screen guys news news there has arrived to dock the information that Crazy Justice is also gonna be split screen play split screen and 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 with motion controller with motion controls this will be legendary so the people we are all already trained le persone che sono amblituate si well we know but you yes to the recommended ability drop roll because when you land from your inkjet you can then do a roll to safety ah yes that's true but this is only with dualis no or with with which ones cosa quando fai il inkjet e atterrizza poi fanno si no c'è anche una perca che puoi mettere come se domani avrò 5 euro sa sì perché le cadono un niente sì in Italia così funziona il dentino non mi ricordo il topo del dento ma sì no ma soli non mi lavano mai non mi lavano come con il ma c'è qualcosa le monetine come con il che oggi posso partecipare ma mors può invita la invita la Kate mirad dopo di fare la partida dove vai a jugar me cambio di ropa però Jess io me cambio cada estazione se hace calor un traje pues eso e se è invierno pues abriamo ai che sr Karl te vamo a sr Karl sr Karl o la Marco il gioco non è capito bene quando uscirà uscirà secondo quatrimestre del 2018 quindi o a breve o ancora a un po' sì assassino sì sì sembra veramente bello quel gioco divertente molto divertente mi immagino assassino urlando oh mio Dio per il dente allora ho smirato come vai in tutti i vestiti sempre non posso insistire sono la Sonic benvenuto a Splatoon ma costerà secondo voi è certo che costerà cosa il gioco dice no ma chiaro che costerà certo ma da quando la Nintendo regala giochi ma no ma i giochi regalati non andrebbero mai ragazzi dietro i giochi c'è una persona c'è un team di persone che lavora a volte anni e anni giorno notte tutto il tempo dire che un gioco deve essere gratis è come dire che vostra madre vostra padre dovrebbero lavorare gratis è corretta questa politica secondo voi quindi un gioco gratis è buono no per me no se poi ci fossero una organizzazione diversa nel mondo nel senso che il governo li vedrebbe come buoni darebbe dei soldi a gente anche se arrivassero gli alieni e poi come siamo in questo mondo è tutto gioco gratis c'è uno sfruttamento è un guadagno improvviso e va a rovinare sicuro chi ha lavorato è tipo Fortnite per il senso del gioco che è tipo battle royale che le cose che possono essere in Fortnite si possono usare i mezzi su Fortnite si può andare su una macchina moto cosa così mi pare di no perciò già lì ti dico non lo so non credo che guarda per PC lo split screen non c'era ma i motion controls erano disponibili solamente con lo steam controller che io non ho ok ti può aggiungere vale you got this dog brush up the competition ok so alright si per switch sul sito del gioco il pre-order è di 15 euro esatto correcto Sassi ciao DUCA DIGA DUCA scrive congratulations Edgabri Duka you caught alive tipo è che a volte non è vivo lost prince hi lost primes vabbè io lo compro anche se costa tipo 60 euro perché mi è sembrato davvero bello sì sì grande così devi pensare in questo caso secondo me cosa sembra fatta bene sicuro non avrà non avrà sarà un pochettino più arcade rispetto a fortnite che ha la ballistica dei proiettili non so quanto siano veri perché a volte vedo delle ballistiche che sono un po' improbabili per l'arma che la persona sta usando perché a me non piace fortnite ma mi guardo tantissime tantissimi stream di fortnite quindi è ancora in beta è stato qualcosa in italiano è anche il idioma che parliamo qui molto a menudo e con il tempo sicuro che vas a capire di fortnite il è l'ultimo match è l'ultimo partito chicos ho capito si guarda ninja mi stai dicendo l'ultimo partito cosa loli 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 no no Non, 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 no, non mi, non mi. Ok, quindi, proiettiro? Tettacchi contro la... Marco, boom! Ah, con Marco, contro Marco. E con Marco, ... Oltranno in controllo? Ecco, questo è un bel reg아. ora si me notaron quando non? al final lo tiene o no? il che? è chi? si, stella, lo abbiamo detectato e che tal? spilatoone o in Switch? stella mi falta poco per acabar e ora viene lo bueno manuela, perfecto non ho capito che questo gioco è stato giocato in altri continenti non ho capito non ho Switch io non ho Switch non ho Switch io non ho Switch io non ho Switch io non ho Switch avete votato la risposta ancora no Duca dobbiamo ancora votare ma lui la decisione è già la presa io sto con Leo tutta la vita e lui il capo delle tartalughe mincia e voi? in italiano noi quando eravamo giovani le chiamavamo tartalughe minchia alla ricotta perché il motto era tartalughe ninja alla riscossa noi dicevamo tartalughe minchia alla ricotta anche io dice Duca bella Duca boom buono però stella ti gustaría tenerla nel sentido ti piace provare e tal? mi imagino che sì se no non lo saprei se incontrarla no può essere che le gusta solo mirare al diretto io miro il diretto di Fortnite ma non mi gusta giocare quello hai persone che ti sfruttano di tutto cochinagua 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 amore non è cochinagua anche io solo dalla parte di di Leo Leo è un ritmo tropical si è il primo chicos vamo in privata vamo a jugare in privata perché no no marco leggo l'unico asesino qui è Sassi, il che ha scritto encima tuyo, Sassi è un asesino si, a volte che giochiamo e a volte non è il nostro gioco migliore, questo giochiamo molto in Splatoon 2 e anche 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 in minecraft minecraft mira è cominciato a giochare le due settimane, quindi mi gustava un monton perché è la novità, via è caduto il tutto, 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 come tutto? non so se è io che l'ho stoppato aiuta! no! espera! che è passato? non lo so, 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 Emanuela, vamo organizzandolo! Sì! Duc, ho scoperto come fare dei bambini in survival, quando si è un momento di più vicino, così vicino, verano i suoi sceguirano, il problema è che vivano in il sole! Emano in cui facciamo una ruota per loro! Non è possibile? ha scoperto come fare un'arma come i suoi sceguirano in survival che quando si c'è un zombie da un posto di spettacolo e le lanciano sceguirano. L'unico che si sciolgono con la pioggia, quindi facciamo un tetto, dico io, no? Viva lo spiega di Minecraft Doc, ma soprattutto quale è il colore più bello secondo te? Rainnake? Il colore? Ora si è tutto, Doc, come a ti ti gusta Brunite? Diché mi gusta tenerlo, ma chi ha detto che ti gusta Brunite? Ora lo sai tutto Doc, come a ti ti gusta fare? Diché? Baggata Non lo sapevo Nooo No, Loli, non lo sapevo, è baggata, no? Per te Si, per favore No, no, non è baggata, ce l'abbiamo fatta No, no Leo Luigi, il codice? Il codice? Il codice? In le potatine Ciao Il codice? Il codice è Nelle potatine Nelle potatine Doc, per te quello è il colore più bello di Splatoon? Quasi Il... quello lì, quello di colore... di colore... 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 Dai rispondono per lui, gli piacciono tutti Il bianco A me personalmente piace quella turchesa Il trasparente A me piace quando è tutto pulito, ragazzi Sì, anche se crea il snow Quando si vanno, magari Se... 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 Marchi Marchito Ti dico Ffff... Non mi gusta cambiare di arma Mi gusta questo E non chiedo... Il dia di manana... Alla meccor Voi ottravesco mia arma primaria Però ora mismo no Non mi gusta Non chiedo... Chiedo di sfruttare del cuoco, intende? Perchè esassino di spettatore? Perchè era l'ultimo della... della sala? Chi entra ultimo aspetta! Ti faccio la reaction reaction Quando si libera provo ad entrare... sono Morse Ok Morse E anche se la russa Checa Ed è un bambino Checa E un bambino Un bambino Dio mio voilà poesia poesia mi sparavano col bazookarpa e avevo una bollata davanti eccolo eccolo il dottore che vogliamo no 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 por favor por favor decalo decalo no va bene con la vittorina sei silenzioso oggi e intorse duca e francesco fuori mori Oh Oh Ringmaker logic pop the bubbles of the fish inside cannot breathe then take the now dead fish okay that's also another way to see it so no no duca crashato è more ti tocca amore a morse pensi che sia molto forse era però la clave di splatone la clave di splatone quando reinicia la sala victorin 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 la clave di la vita è essere felice, avere amigas e niente come lo dico io, la clave la clave della vita è respirare con la narizia o con la bocca poco importa chiamatemi morena ah non sei morse quindi sei morena sei morena ma sei bionda morena bella morena mia era cosa era michel bosè si stanno spaccando tutti i neon oh mio dio sembra una donna no quello che è da schiacciare ma con il televisore è spento quindi no lì che facciamo adesso vedremo quando ci splatti vedremo che arma usi ah lo despertò la misma, essere felice, avere amigas, è chiaro che sì sì, la siguiente la reiniciiamo, eh chicos the next will be restarted sol e luna talk sings in language I don't know la nella la 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 tarda ok mischiamo l'uscita e quindi moschioliamoci moschioliamoci la clave della vita è essere come una vita sì, sì, è vero, la vimos e pensavamo in ti ma pensavo in ti, tu te pensavo in me venga, Manu, è Victorino, e credo che per prima stava Victorino sì, stai uniti wow, 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 è il mio cagnolino, è grande Marco quando sei amarello, sei amarillo amarillo, non dice amarillo il che? dog, come quando sei morto, la scena dice armadillo? no, no, no aspetta, sei morto, no? sei morto morto? morto sì, let me, let me just check when dog dies, ok? so, let me just check KT the inkling, hi hi KT the inkling Marco lero stanco che che? che che? dog die, please die no one seconda play oooo e quindi armadillo splat armadillo 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 è un animo, questo è l'ora mi sei confusa che 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 ale è arma è weapon, dello è of the, e splat è ovviamente splat chechina, li sta chiamando fanta che 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 c'è duca? Dica duca! ma cosa c'è con questo? se lo fai una volta va bene, vieni ogni volta solo per fare quello e dirò no? non so o se c'è qualcosa che non ho capito l'ha detto l'ora fa, non ci pensa neanche più no? no ma io non ne ho risposto per quello, poi sentite va bene se me ne vado il wifi dove sta narrando che che Geoffrey hi JT Boss che è Loli e Chris che è Cofino? sei nel mondo all'inverso cosa dice? non lo sabemos ancora, Karenita doc benvenuto a travesse Kais come Mosca ah io questo non lo capisco e io neanche, molto bene bene splat zone ah ma domani avete scuola già di nuovo? si? ah no 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 e devo iniziare la casa è vero nooo ai spera che teniamo che iniziarla vabbè gli ultimi due questo è l'ultimo e noi iniziamo sorry perdona Victor aspetta aspetta vediamo se faccio così se cade normalmente cade no e è che Duca che riesce a tenere il video e si speriamo domani magari tanto noi sicuro che non li possiamo fare ancora te ne vai ma però già? proprio? si? ciao Duca ciao Duca stupido boom si andai show no 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 perchè posso ah Fanta non ce l'ha come no perdiste Loli e l'ultimo tu è ah no ma eh infatti ha iniziato la sala però si come ultimo eras tu e e l'altro e Chris ok ok quindi Splat Zones è dove claimi propriamente e poi i vecchi provano di prenderla da te più o meno sì 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 makes 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 sense e e casualmente che arriva l'ultimo casualmente che arrivano ultimi sì sì l'ultimo 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 non lo credo neanche io ciò con il Giamani bene morena è 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 me molesta un monton che Splatoon nos da solo 8 persone giocatori l'ultimo chiuso sì la suerte che che è è è sì capito bene non è questa logica fa senza o senza 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 perché senza è la corretta tutta questa logica fa senza senza dead fish property stealing eliminati an entire race summer thanks to Splatoon where kids kill kids well huh now you use made an interesting but at the end you have to see what happens it's color no so I don't know what counts is more that but yeah Jeffrey very well and you how are you doing I mean what is the spectator while he's in the room that's the logic Loli I want to get there with the weapon I would like to have a special no 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 va a fare mucca no è un ritmo troppo piccarla e sto aspettando che mi switch prima che mi lascia un final guapo no invece c'è la tonteria ok tuca dai ora vi saluto seriamente dai dai se domani ci sei sì ok ha detto prima perfetto perfetto quindi ripotropi carl oh buonanotte dica duca dica duca ci vediamo domani per registrare il video dei mobili domani si fa il giorno inserire il numero del mondo creative di minecraft allora domani 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 e no perché abbiamo più o meno dobbiamo fare ancora un giorno di lavoro per poter fare il video un giorno io farei due giorni di lavoro perché abbiamo mostrato tutto fino adesso eh fantino manca solo mezza giornata però non ti preoccupare si dobbiamo andare avanti domani se siamo tutti insieme facciamo il metro con i colori giusti e facciamo un paio di cose che vorremmo fare ora in l'acto expansion pelearemo contro le optariani delle profondità zombie del spazio o qualcosa di loli quindi questa è la nuova storia quindi? ma loli al fine ha Minecraft? sì sì è verrà loli che è successo? quindi ci si contiamo come è questo? sì o no? no loli è un papirà è un papirà è un papirà e Carl io è Sassi e Carl se ha quedato il miglior del equipo del perché Victor che è stato che succede che è stato che entrò ma domani che video si fa domani si fa la mattina il video dei mobili con Duca e poi dopo vedremo nessuno dei godi siti questo è sicuro che domani dovremo lavorare sui video di siti quello delle linee di metro quello che si vuole fare il treno Saretta com'è andato il compleanno hola Benjamin El Cido che tal? El Cido troppo Carl you hate it Jeffery Kaleb o la Kaleb Kaleb oi si che si pos no se io che tal dog dog vogliamo una reazione ma non c'è dire che funziona cioè devo risolvere devo risolvere il problema di registrare è in italiano mentre faccio live stream in quel nintendo non c'è non c'è non c'è tutto se è tutto è vero Sì, Sareta, hai visto, è valuta la pena uscire. I like the new profile pic, Sareta. Maybe she drew it herself, I don't know. Lei ha disegnato tu, Sareta, il avatar che hai. Di parte di Vittorin, ti hai ganas di matarti, ti hai ganas. Non le hai matato a un, però esa morte l'ha gata. Si a ti te fa felice, Vittorin... Tranquilo, la tua tambien. Si quiere, te deja hasta matarte. Nos vemos nel prossimo partito, io te espero all'in centro del mapa. Por 3 minuti me faco matar, por 3 minuti. Si eso te fa felice, Vittorin, de verga. Todo per la felicità vostra. Abbiamo giocato su degli animali che si dondolavano e urlavano wii. Non so com'è, ma me ne immagino bellissimo. Fanta, Fanta, quando riesco a risolvere questo problema che ti sto dicendo di registrare... Allora, ti spiego. Il Made Mathematically e l'altro sono stati fatti, il face to face, sono stati fatti dal mio computer più il computer di Jessica. Il computer di Jessica, da un mese e mezzo a questa parte, solo per accendersi ci mette mezz'ora. Per accendersi. Il tempo che fa partire tutte, tutte, tutte le applicazioni, ce l'hanno tre quarti d'ora, no? Quindi abbiamo provato a rifare il Made Mathematically ed è successo che veniva con un lag che non era comprensibile niente. Quindi abbiamo questo grosso problema da risolvere. Mi dispiace tanto aver lanciato un contenuto che non sono ancora in grado di poter fare, ma non per problemi miei, però per problemi di altri. Allora, aspetta. Hi, Iaia Romelo. Hello, welcome. Did you try the new map and the new weapon? Hello, Shisho, Hayashi, welcome. But new weapon, no. No, I'm so fidelis. No, quello di qua, Sareta, quello di qua. Gente rotta? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hola, Caleb Bufino. Molto bene, Sareta. Madre mia, Victor, quanto odio, chico. Vas adeguando gente a tu lista. Relaxate. Perché i compiti sono così malvagi, non so, sembra una specie come l'incontro di noi. E con questo caldo. Carl! Dove for war. bene Sasi Loli Madonna abbiamo Victor e Thor Sì Abbiamo lo dò Victor Victor No Marco Lero Sai Thor Sai Vic E' il dios del treno Ma tu hai fatto anche prima da spettatore Però perché sei arrivato l'ultimo Allora Sasi te lo rispiego Si divide in due match Questo match qui Che è quello iniziale Nel match iniziale Gli ultimi due Che entrano In questo caso tu e Loli Aspettate la partita che viene Nella partita seguente Giocate La volta prima invece Tu sei arrivato tra i primi otto Hai giocato la prima E sei arrivato ultimo con me Perciò abbiamo aspettato la seconda Questa è una casualità Che tu hai aspettato due volte Non si chiude Non si chiude così mai No Che ha sido? Victor? Venganza su hermanito? Vale E allora vamos Va 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 Vamos Cosa fea che è Turf War Turf Carl Tutte le cose che si possono abbinare a Carl Sono valide Hi Zepp Hi Private Fearless Adesso chiede Giochiamo a Rocket League Of course we remember you I got a Nintendo Labo I want a Nintendo Labo Non so come farò La mia vita senza Nintendo Labo Inizia a non avere più senso Non capisco molto l'italiano Chi è? Morena E chiediamo a che lingua parli More Victor? Si c'è l'avatar Che ho per ora Quello dell'Inkling L'ho fatto io e ieri Al ristorante Eh ma io non vedo Quello dell'Inkling Però non lo vedo E anche di qua E si entro Eh ma qui è tutto da pintare Ah bellino Eh quando sei in chat Ancora non si è attualizzato Ma bello Oh ma Oh minchia che camperone Carl sei un camperone Carl Eres un camperone Campero I will never get over the armadillo Oh gosh I got No Oh yes Jeffrey I saw it We were checking the friend's list And we said both No Jeffrey Has a Nintendo Labo Is it cool? Which one do you play with? Boy He's jealous of you I have to tell you Claro Carla Claro Eh certo Perché no Sanità Ti fa piacere Mandarmelo Io oggi dovrei disegnare un po' Finire quel disegno che ho fatto E ovviamente lo vedrete tutti Non so se abbiamo vinto sai Dice Loli Equipo Rosa Cuidado Están perdendo terreno En la base Hemos perdido terreno En la base Ui si Non mucho No mucho ganado No 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 Para ellos Hemos ganado igualmente We won even though Nos inventamos que hemos ganado Allora Chris Hector BV Quindi Mor Which language do you speak? Thor e Chris Black Bo Black Loli non è black Guardi una prova che Loli non è black Che qui non è chi? Loli è black Black I Loli E una partita Oh Oh Tata Rattatata È un ritmo troficale Tata Devi solo Allenarti È tutto quello Non c'è più Veramente Io parlo inglese Ma Kate mi ha fatto imparare l'italiano Ok Si hai ganato Sono il filo di janera È come te sientes Io mi sento bene Io che pierdo che vengano È importante che mi divierto E poi E poi M è S L'Epi Mi salpica Me Mira Carl È tan majo Io ho sido No Io non ho sido campero Come Ma come Ma come Io ho vedo il Direc In il mobile E io E dove Io ho Mi ha scendito Per 3 secondi E ti ha matato È Sì, certo, però è lo dice Sempre che canta il ritmo tropicale, mi immagino a Doc e Jesse va andando Però è che in realtà come che votiamo medio in la silla, te lo puoi immaginar Sono davvero arrabbiato Si, Bleggy Bleg Disegno come una cabra stradica Sabe questa qualcosa Ok, adesso hai paura Cosa succede? Ma Sasi, perché sei arrabbiato? Io non so dove cazzo li ho Dopo questo devi uscire, che crasha Ah, ok, mi sa che crasha Wow, Francesco Grande Francesco, uh Uh Uh, sono qua Dove è andato, dove è andato, dove è andato? No, 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 era proprio lì sopra, Vitto Bene Mi sa, Igo di Saretta Come l'hai scritto quello mi ricorda proprio a me, direi Dai, bellino Ma devi fare proprio con la tavoletta Che sarà meglio Boah, a me è tirato come un salmone, sapi? Come un salmone Ma tu sei un squid Aspetta che mi... Non ho uscito da YouTube Jess, giuro che non ti ho copiato Lo stile di firma Giuro, come no? Ma è la stessa? Cosa? E abbiamo lo stesso gusto, diciamo, quindi E pensavo che firmavi con la S Nella saretta Doc, perché a me sale morato e amarillo In le tinte della partita di sale verde o azul Ehm... Che? In serio? Ehm... Perché a me viene processato il coloro La torreta Ehm... Quindi va a cambiare un pochito Ehm... Non ho tu... Però... Ehm... 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 emy... Grupa... Leo Rapp Esatto Carl Claro Sonix Ma dopo quando hai cambiato i capelli su Splatoon? Hai cambiato i capelli? Io perché qua Ho tanta difficoltà qua a salire Nooo Talk and jest, best channel Grazie, grazie molto Loli? Tutto bene? Loli non ha rispondito antes, non la pregunta? Loli, quando acabi o quando non ti mueras Que ha passato con Minecraft al final? Dobro un chiquero, mi mancava una victoria Arrivavo al rango S Quanta importanza Tu sai cosa succede se mi vuole incapponire anche io a prendere il rango S? E si che devo prendere un paio di giorni No, no, ci metti tantissimo a prenderlo Però non devo fare stream perché loro non giocherebbero E' chiaro Perciò io non posso prendere il rango S Questo devono capire loro O Fai stream solo per prendere il rango S Solo entrano i più prod Iper, ultra, mega E come fanno? Come fai? Come facciamo a prendere il rango S? Di quella classe Dobbiamo fare solo liga? È quasi impossibile Sì In quattro Cambiando sempre i personaggi No ma che fai Ma non puoi Pobri no Sassi Stai scrivendo ma perché Sassi Rilassati Non c'è di nada E non so È raro eh Perché io lo veo In la pantalla del juego Lo veo quasi del mismo color Che in la pantalla Cambia un pochino Però molto ligeramente Io vedo Grande Saletta Incredibile INGREDIBILE Così La prima o la seconda? Già la seconda questa Si Francesca e Loli Anche Hello Quiselda Ok Una volta al mese Si Fanda così Fra quattro anni Sarà rango S Ciao amore Ciao 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 Ok Sassi Bravo Adesso abbiamo riniziato Non è gay Saretta E muore Io non mi ricordo neanche il codice che ho messo 7055 Guarda Sì Questo dice? Tereret tereret Cosa esce? Carl Control Carl Control Carl Control Marco Francesco Andiamo Dai dai salutate a casa raga Fateli youtuber Modalità youtuber Attivata Nuova modalità Carl Ritz Salute You're on YouTube Sì I will watch it of course Mamma Carl Zon Ciao YouTube Fatela voi la trasmissione visto che non vi piace Fatela voi Fatevela voi la vostra trasmissione Senza senso Senza parole Salutate a casa dai Sto che siete così Siete i migliori youtuberi Ma non siamo youtuberi Adesso si è messi a Ecco exact Che cosa succede Questa è il buffadog Black Andiamo Chi è con te? Marco Sassi Thor Marco Sarsitor Sembra una formula per evocare il diavolo Marco Sarsitor Siete Lifetuberi e questo mi piace di più Mi hanno fatto paura No, si è affinato un meme Alripo Tropical, Salamon Carl Carl Zone, Stufcar Claro? Lo creo che Che puoi togliere A stai Con eso? No A ver Carl Blitz è davvero buono E in cima Te ha matato Carl Quando stavamo parlando di lui Lo abbiamo invocato Carl Maker Carl Te sta utilizzando Fanta te sta utilizzando Sol Buon lavoro Buon lavoro That was really quick Buon game Guys Buon game Guys And I can see Sol now? Io ultimo eh Sicuro ultimo Mira Bam Sassi ultimo E Chris E Chris ultimo You said unfair Why was it unfair And I didn't even see you Oh my god Oh my god A todos E Leonora Eleonora 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 Questa era la canzone di Eleonora Frank Ehm Minecarlo Ele racconta come dondolavo sui cosi Che facevano Wiii Arriva sopra la torre Sassi Ok Sol We watch The look Because the matchup Before was so quick We couldn't even see Maybe now Hopefully you're in our teams Where is Sol, where is Sol, where is Sol I can't Where was Sol Ok I can see you Let me see Sol Don't run Sol I wanted to see you Ok Sol is playing That's good That's good Go on Don't Don't stop Eh Que cosa cosa Pure L a Don Donado Per 5 secondes Mi sono adormentado E' stato a causa delle tue maledizioni Da parte di Frank Pisolo Dalle tue manzioni grower No Frank Sai che è passato oggi Dalla live Casa Nintendo E' passato Oggi poveriggio a salutare Ha detto che era a cena con amici Oggi Adivinen Oh 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 Sì, 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 sì. state vincendo per adesso la Carl Zone hanno zones no ma come mai non è esplosa quella mea mia sorella mette sto fu ritmo a trovi Carl poi è venito Cocco è buono no 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 ha fatto sì vanno a vincere c'è una cimice sul mio leto cosa fuggi di là no non è vero portala fuori è un ritmo a trovi Carl posso venire bene è la riavvio questa già la riavvii? dove abiti tu cadono cimici dal cielo 2222 dove abiti in una campagna? capanna? chi si so? ma le cimici sono ovunque capanna adesso hai capito scusa? in una cueva ah come si so? e quindi 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 e quando 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 i godi blec ale 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 buon codico buon codico il codice semplice quello delle Il primo sia il primo sia il primo ragazzo per tutti i minuti. Pantofle, Joycon, televisioni, finestre, maledetta, insieme. Lanciando pantofole.it Saletta caffè, vieni a giocare. Dale. Tor, 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 Marco, 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 Fra, Fra, Fra. Marco, 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 Marco. Begletunz, tunz, tunz, Marco, eh, crepio, legge. Marco, 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 sono un DJ tube. Vai, Marco si è addormito. Fai la nana tesoro. Ti è sicuro? Ti è sicuro? Ti è sicuro? Ti è sicuro? Marco, 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 Marco. Ti è sicuro? Ti è sicuro. E la DJ Jessie, sia la che ha il fondo, ombre. E' con i santi fattos? Sì, con i santi fattos. Sì, con i fattos. E' con i fattos, con i fattos. Pos, 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 pos. Che sicuro. I'm dog, I'm dog I'm dog, I'm dog I'm dog, I'm dog Basta, basta, basta Mentira, sto qui, en serio? Marco? No, non è vero Marco Lero Stanco Le han robato il mobile e stanno parlando Perché Marco non stava qui Perché non aprieta la... Doquino, canta su una bella nina Tengo miedo E' vero, ha evitato il bus Ho una nuova auto che fa Gus, gus, gus Tre veces Vale, ora dieci minuti E vero Dieci minuti e vediamo Ma che modalità è questa? Cosa devo fare? Niente? Allora sto fermo Mischiamo l'usca C'è un cecchino, c'è un cecchino Il nome che mai se parece, Sonic Wow Ok No, cecchino, cecchino Aspetta, aspetta 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 Oh, oppa Otro cecchino Questo non mi piace però Si può solo inventare Dove siano tutti? Wow, 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 wow No, no, no Sassi, grande Claro, Cristian Madness Buu buu Hai Enmad Buu 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 non lo so, non sono piaciuto è più piaciuto, credo per la Casi Justi che per la Smash ciao Enmad, come te ho mostrato secondo la vloggia di Fanta ora in America sono le 5 quindi Enmad, cosa? boom Carl, boom Carl grande Sol è anche qui, sì Sol ha fatto un buon lavoro di oggi questa melodaccia oh, vale Loli però tu nunca mi risponderai la stessa pregunta che te c'hai a tre sventi oh Loli, 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 Loli Loli, 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 Loli scusami ma lo tienes o no Minecraft è un ritmo troppo caro vale Sonic hasta luego grazie per averte passato e mucha suerte they're gonna show the gameplay of the Super Smash Bros in the Switch buonanotte Saletta ci vediamo ma tu hai scuola domani Saletta o no? se no giochiamo domani al mattino ma e dov'è? dov'è andato Frank? eh, a volte scrive a volte no Frank? no si ha detto quello dell'orologio ah, Frank non è entrato io non ho guardato che era l'ultimo sai 12-13 and they are gonna show the gameplay of Super Smash Bros ah, ok, ok good well, there are still a moment or two to go 15-15-2 minutes eh no, ma in este partito abbiamo che fare il cambio dei giugatori quindi ha avuto la suerte Loli Lola, sì Loli quindi Loli, cosa hai detto? tendrai che sperare questa mattina vaale vaale no Carlo, non fai tu tambien pop corn time for M grills dale niente, oggi è bugato il numero contatore chiaramente chiaramente, sì e dal dragonback l'hai visto che si è suscritto? no non è uscito ecco, guarda Gus se connesso cus sì se connesso cus che molto incontro saletta, ma ancora l'hai riusciuto a vedere perchè la saletta che mi ha scritto la di cus come cus oh, non ci credo ma come funziona sempre? fa paura già tengo i mesi colori che tu ricordate il momento di tempo ricordate il momento di tempo è il momento di tempo wow chiaro che sì è il momento di tempo sì, è il momento di tempo sì, ovviamente è il momento di tempo ricordiamo pizza e noi che facciamo? grande sol grande sol perché? non mati il sol non mati il sol non, non, non non, non non è non sol non ho mai provato se ho distrutto il sol è come quando schiacciato il gatto di vicino mi sa che era con un cane bomba, no? di quelli l'olio e le tomas il pelo o è vero? dice, per sacare la divida di colore ti devi presionare 2x, 3x, 3x, r poi basare 2x e presionare a 2x se fa così? divido 2 divido 2 x 8 si può parlare in squadra del 16 e vanno a ganare è un ritmo troficato what madness? hello Japanese friend hello hello oh, sì, sì avessi davvero, avessi davvero avessi davvero ma infortunatamente non ho avuto ancora ma avessi davvero avessi davvero avessi davvero credo che abbiamo un problema seriosi crisi sassino perché? adesso si è bloccato e mi sta facendo vedere tutte le persone ho ristortato che strano che strano you are always welcome here sì, welcome ok, è tutto il giorno di mattina cool ok, ok ma prima era il tuo mattino perfetto quindi abbiamo una buona cena wow, ancora un tutto la domenica per davanti dai che bello non è una buona non è una buona non è una buona non è una buona è una buona è un laboratorio è eccezionale è bello sono tornato sì quindi magari spaziamo in Minecraft ok ok è che Loli, Carl, è un nico di genial è un nico di bueno Loli ha detto che è un nico di nuovo Go Line? Line? What do you mean? Hello, Alessandro, welcome Ciao Ciao Alessandro Go Line Si so, si sarebbe bellissimo Oh, c'è amicizia Oh Soli, soli Come lo sabiasi quello di Go Line? Non lo so Codici Goose Goose, Goose, Goose Va, sappiamo che va a segnare pronto per qui, così va Consigliate Arme buone per far giocare? Qualche consiglio per Fanta? La parte della chat Vale, Thor Thor, por suerte potete ganare in questa partita, se fai conmigo Non ti preoccupi? Ah, io anche Cristian l'ha detto Grazie Grazie, grazie a lei per esserti suscritto Grazie Speriamo che funzioni Spera, ma mi sa che è portuguesa, eh? Correira o... Oh, inglese Inglese Grazie per inscrivere 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per inscrivere Grazie a tutti 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 non mi interessa e va col punto finale con le nostre hack andiamo ora il tormentone del meme è le hack e le acce le acce sa se è cresce ma troppo piccolo tutti morti e andiamo io farei l'ultima si proprio anch'io stai arrivando alla fine manca una partita si è l'ultima partita questa raga ragazzi this is the last match because we have to eat dobbiamo ancora mangiare noi ragazzi vedeteci anche come persone che viviamo ma eri già prima qua e su una mini mini raggisca e vabbè ma direi che tanto noi continuiamo adesso a un mine un minecraft nel mondo nel mondo cosa facciamo? è sopravvivenza no? si sopravvivenza fai sopravvivenza? no cosa vogliamo fare? non so non lo so sentiamo chiasco perché penso che non avessi un team di otto inscrivvenza no 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 Franco fammi fare la mia cosa veramente tu può tu puoi tranquillamente non hai obbligo morale L'importante è che ci sei quando giochiamo a Splatoon Alla fine A me veramente mi sta stancando Quasi Splatoon Però ci gioco Minimo un'ora al giorno me la devo fare Un'ora e mezza, due Stasera dai un'ora perché devo ancora mangiare Vieni quasi due Eh voglio giocare in sopravvivenza a Minecraft Perché è troppo divertente Minchia con Sol stiamo giocando bene Adesso dovremmo Ascolta facciamo una cosa Ha capito cosa vogliamo fare E gioco a lui così anche Andiamo bene Facciamo una cosa Sarebbe da fare Eh ma no non so come farlo Non so come farlo Perché se il server lo facesse uno di loro Non accettiamo amici di amici E ci siamo solo noi E siamo salvi Nessuno ruba le cose Qui e lì Cosa ne pensate? No no io le pongo il gol Tizan Hello Tizan Welcome Good evening to you And hello Quentin Hello Quentin Welcome 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 Ah Alessandro What do you think about Minecraft? If I can know your opinion about the game No so Ok Ok If you want to add us Ours is in the description Yeah I know I don't add normally We don't like people to write it here But we did it Oh tanto Yep it was a private battle Tizan but it's the last match No it's the last match We need to hit We have a stream so much today And we want to continue to stream in Minecraft So we need to hit and stream again Yeah my controller was blocked No non l'ho vista No non l'ho vista Che stai facendo? No 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 Non lo so Ah no si 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 E ragazzi italiani Che ancora sono qua Non so Cosa pensate di questo Che stavo parlando Doc? No ma non è fattibile Perché poi alla fine Non posso portare avanti Dovresti essere tu quella persona Ah no ma no Dovremo comprare Minecraft per la tua console Ah no ma No Perché sono l'unica Che potrebbe passare senza amici Ah no Perché sei l'unica Che sei sempre disponibile Quando io voglio giocare a Minecraft Cioè C'è lo switch qua Se voglio giocare a Minecraft Accendo e basta Ok Quentin We have understand you Please Two time for me Giocate in due Sì questo sì Questo lo vogliamo fare adesso Vogliamo montarlo di là No? Quanto giochiamo però? Adesso vediamo Sì la cosa è E che Vogliamo fare le cose serie Quindi non vogliamo gente Che ci spacca le cose Costruiamo noi O ci rubano le cose Che abbiamo messo noi Nelle casse Perché non vogliamo fare Un mondo survival Dove lotta contro tutti No Vogliamo fare una cosa Insieme E quindi non andiamo Tanto bene Con tutto il mondo E vogliamo soluzionare Questa cosa Non sappiamo come Non si può fare Che non può entrare nessuno Eh? Tranne X persone No si può fare Nessuno di amici Però negli amici C'è sempre dopo la gente Oh O O ti fai solo Per giocare quello O un altro account Ah ma Un altro account Allora qui abbiamo Sassy Chris Marco Lo uscirà a Crazy Justice Tutto comberà Sì Fanta Anche lui ha detto questo Questo pomeriggio Black Woo Eh ma Fanta Non puoi rimanere Sempre con una cosa La vita non è così Non Non deve sparire le cose Però si deve andare Anche un po' avanti E Crazy Justice Potrebbe essere realmente la Non in pazzia Ovviamente però si Si c'è una cosa bella Come Crazy Justice appunto No secondo me può essere innovativo Può essere innovativo Sì oggi hanno fatto vedere Il video Dello split screen Tutti potrete giocare ragazzi Avete capito che non ci sarebbe Non ci sono più attese Raga Non riesco ad entrare Non riusciamo a giocare No Cento posti ci saranno Minchia solo quello Deve far venire Chicos Con Crazy Justice Per Switch Tenevano Sì 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 Come si dice Se ne ti ha Aiutami Come? Là? Cioè non ti perdere Spera? Non so Guarda quanto sei indietro No non sono indietro Cioè Cento postazioni Quelle si può giocare Sì In Crazy Justice In che idioma ha detto Quelle sir? Stavo parlando in spagnolo Neanche mi sentivi Con chi sto parlando in spagnolo Scusa non ti capivo Va bene È quello che hai detto io E lo stai ripetendo tu Che sono Cento postoni Sì ma l'abbiamo detto in spagnolo Io ho piacere di dirlo in spagnolo Ah ok Non te lo traduzco Quindi Chicos lo che sta intentando Doc decirme È che Nosotros siamo super ilusionati Per quando va a salire Crazy Justice Perché Básicamente Lo que nos interessa È che Podiamo giocare Il maggior numero De persone Possibili E là Come va a ser 100 persone Va a ser una Una locura Quindi ragazzi Dai Andiamo a finire Lo stream Andiamo a salutare Le ultime persone Di quelli presenti Che hanno scritto Quindi Esgere Frank Loli Marco Lero Sasi Tisan Victor E gli altri che non hanno scritto Non posso salutarli Perché se non l'hanno scritto Sempre la solita cosa Eh sì Un abbraccio Io vi saluto a tutti I salute you all guys We are closing the stream See you in a while See you later 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 Ciao Fantino Ciao a tutti Ciao a tutti Ci vediamo con A breve Con Minecraft Grazie a tutti